buongiorno e buon venerdì non so se capita anche a voi di incontrare o di vedere dei video che ti illuminano io per caso ho iniziato a seguire una blogger molto spirituale che canta i mantra indiani che si chiama Thea Crudi e lei spiega le cose in maniera meravigliosa poi ha parlato e ci ha letto dei brani in questa live che è un programma bellissimo di Giorgio Cerquetti se non sbaglio e ho iniziato a seguire anche questo Giorgio Cerquetti e parlava delle aspettative delle aspettative che gli altri hanno su di noi mi ha colpito una frase che molti dicono è un genio incompreso se un genio è incompreso se un genio non è incompreso perché lui è un genio e non ha bisogno di essere compreso dagli altri non ha bisogno di accontentare le aspettative degli altri ha bisogno che lui stesso si capisca e lì veramente mi è scattata questa cosa ho detto cavolo quanto ha ragione e poi aggiungeva che quando tu ti metti in ascolto e chiedi e chiedi verità chiedi che ti arrivi un'illuminazione ti arrivano le persone giuste per farti capire ma il lavoro lo devi fare tu non ci sono persone che fanno il lavoro al posto vostro arrivano anche le persone che anche in maniera brusca anche in maniera brutale contribuiscono al vostro risveglio perché il vero approccio anche davanti a una persona aggressiva, brutta che vi prende in giro può essere anche quella un'occasione per capire voi stessi l'importante per andare avanti è capire noi stessi io ringrazio che esistano in questo mondo personaggi come Thea Crudi come Giorgio Cerquetti perché mi fanno sperare molto bene di come andrà il mondo che non andrà come diranno loro ma cioè quelli cattivi ma quelli buoni ne sono convinta ne sono convinta